In studio Veronica Puglisi. Buonasera a tutti, in apertura di questa edizione parliamo dell'attuale situazione del Covid-19 in provincia di Ragusa dove sono in aumento i casi positivi, l'unica arma resta il vaccino, sottolineano dall'ASP, ma facciamo il punto in questo servizio. Continua a crescere il numero delle persone positive al Covid-19 in provincia di Ragusa, sale a 673, gli isolamenti domiciliari sono 650, i ricoveri 17. In malattie infettive sono presenti 14 persone, in terapia intensiva 3 a seguito del decesso che si è registrato ieri, in RSA sono in 6, le persone decedute sono 277 appunto. Mentre per quanto riguarda gli isolamenti comune per comune a Cate conta 8 casi, Chiara Montegulfi 5, Comiso 84, Giarratana 3, Ispica 15, Modica 31, Monte Rosso Almo 1, 65 a Pozzallo, 142 a Ragusa, a Santa Croce Camerina 105, a Scicli 16, a Vittoria 175. E si fermano ad un totale di 310.810. In tal senso, un forte appello arriva dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa alla vaccinazione come unico strumento per bloccare il virus. La Costituzione può prevedere l'obbligatorietà vaccinale? E a spiegarlo è il professore Cariola, costituzionalista, spiegando che la salute della collettività deve essere garantita dallo Stato. Bisogna tutelare non solo la salute del singolo, ma anche quella della collettività e dunque l'obbligatorietà al vaccino può essere decisa dal Governo nazionale che avrebbe dalla sua parte proprio la Costituzione italiana che tutela la libertà di circolazione e la salute intesa come diritto fondamentale di tutti. Lo spiega il costituzionalista Gatino Cariola, da noi interpellato, per chiarire alcuni aspetti legati al dibattito sulla obbligatorietà del vaccino anti-Covid e sull'uso del Green Pass, anche per accedere ad attività quotidiane come palestra, trasporti, bar e ristoranti. La nostra Costituzione prevede all'articolo 32 che la legge può disporre delle cure obbligatorie, entro ovviamente il limite della dignità umana. Allora, la legge dello Stato può prevedere appunto dei vaccini obbligatori a carico delle diverse categorie. La salute è per una parte un diritto di qualcuno, di ogni soggetto, di ogni persona e per l'altra parte è un interesse della collettività. La legge può prevedere cure obbligatorie, può prevedere i vaccini. Devo ricordare a proposito però che esiste un ampio filone giurisprudenziale che obbliga lo Stato a risarcire o meglio ad indennizzare le conseguenze dannose dei vaccini. Non sto dicendo che questi vaccini sono dannosi, sto dicendo che se ci fosse questa eventualità dovremmo applicare la stessa giurisprudenza. Tutto questo è in nome di un concetto, di un principio fondamentale che è quello di solidarietà. Dunque professore, su questo principio può essere applicato anche il Green Pass per le attività quotidiane che può essere un bar, possono essere i trasporti, può essere la palestra, perché anche lì si pensa alla solidarietà, al bene collettivo. Allora, la possibilità che alcune attività sociali siano condizionate al vaccino e fin dalla certificazione del vaccino rientra in questo ambito. Professore, di fatto già c'è una categoria per cui è previsto l'obbligo vaccinale che è quella dei sanitari, un decreto legge ad hoc fatto dal governo. Le limitazioni ai diritti di libertà e quindi anche le cure obbligatorie debbono essere risposte per legge. Io sono scettico sul fatto che possono essere risposte con decreto legge. Si tratta di decreti legge che poi debbono essere per forza convertiti, ma comportano uno spostamento della funzione legislativa dal Parlamento al governo che, come dire, dà luogo a fenomeni preoccupanti. Infopoint vaccinali negli stabilimenti balneari per avvicinare le persone alla vaccinazione, a volerli anche a Catania, il commissario per l'emergenza Covid. Avvicinare i vaccini al popolo dei vacanzieri, a coloro che decidono di passare una giornata al mare. Questa è la nuova iniziativa del commissario per l'emergenza Covid di Catania, Pino Liberti. Ecco perché da oggi si possono trovare degli infopoint presso alcuni stabilimenti balneari del litorale roccioso di Catania, così come altri sono presenti lungo la playa. È un modo per aiutare le persone che ancora hanno dei dubbi, per spiegare loro come funziona il vaccino, cosa si incorre se non si fa il vaccino, e soprattutto aiutarli anche nella prenotazione, perché ci sono degli addetti ai lavori, del personale esperto che indica quale fascia oraria poter utilizzare, in quale hub vaccinale poter andare, proprio per far sì che possa aumentare la platea dei vaccinati anche nella provincia di Catania. È un argomento estremamente sensibile e importante che dobbiamo far arrivare quanto più possibile alle persone, cercare di spiegare in maniera semplice l'importanza della vaccinazione, i rischi che si incorrono nel, diciamo, allontanarsi da questa possibilità. È per questo che noi stiamo organizzando degli infopoint, come potete vedere sul mio sfondo, dove cerchiamo di dare, sensibilizzare le persone, e dare tutte le informazioni necessarie per farle avvicinare, appunto, a questa opportunità che si può rilevare, appunto, un'opportunità salvatita. Voi siete presenti in diversi lidi della città, dalle 10 alle 16, quindi aiutate anche il popolo dei vacanzieri. Assolutamente sì, noi diamo questo servizio in diversi lidi catanesi, dove diamo, appunto, informazioni riguardo, appunto, la possibilità di vaccinarsi, spiegare, appunto, come funziona tutto e prenotare, presso l'hub vaccinale è più comodo per l'interessato, appunto, la possibilità di eseguire il vaccino. Andiamo alla cronaca. È di due morti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 23 sulla SP3 coinvolti due coniugi romeni che viaggiavano a bordo di un ciclomotore. Lo scontro è avvenuto con un'autovettura illeso il conducente dell'auto a un cinquantenne a Catese. Uno scontro violento che non ha lasciato scampo a due coniugi di origine romena di 53 anni lui e 43 anni lei coinvolti nel grave incidente stradale ieri sera alle 23 lungo la SP3 l'arteria che da Chiaramonte conduce ad Acate attraversando il comune di Vittoria. A scontrarsi un'autovettura condotta da un'Acatese di 50 anni che viaggiava in direzione Acate e il ciclomotore con a bordo i due romeni provenienti dal senso opposto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri di Vittoria. A causa dello scontro violento l'autovettura è balzata su un muro di calcestruzzo ribaltandosi mentre per i due cittadini di origine romena non c'è stato nulla da fare. Le due salme sono state trasportate nell'obitorio del cimitero di Vittoria. Il cinquantenne Acatese in stato di shock è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Guzzardi. È rimasto illeso, ha riportato qualche scoriazione ma è stato dimesso. Sul posto ad intervenire anche i vigili del fuoco, la polizia di stato di Vittoria a supporto delle operazioni dei carabinieri, due ambulanze del 118. I carabinieri di Vittoria stanno cercando di capire cosa sia accaduto al vaglio la posizione del conducente dell'autovettura al quale sono stati effettuati gli esami tossicologici e alcolemici risultati negativi. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere una ai domiciliari emesse dal GIP Lorenzo Iannelli nei confronti di otto indagati ritenuti componenti del mandamento mafioso di Tommaso Natale accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso estorsioni aggravate danneggiamento seguito da incendio. L'operazione antimafia la seconda in due giorni a Palermo è stata coordinata da un pool di magistrati della DDA guidati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. L'indagine ruota attorno alla figura del boss Giulio Caporrimo già arrestato in passato. Dalle indagini emerge la continua richiesta del pizzo nei confronti delle imprese che operano sul territorio. Con questa nuova indagine i carabinieri avrebbero fatto luce su una serie di gravi reati commessi dagli arrestati a cominciare dallo stesso Giulio Caporrimo e dal figlio Francesco che avevano investito sulle scommesse online uno dei settori più a rischio per infiltrazioni mafiose. È stata chiamata la non-eroina dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Modic della stazione di Pozzallo arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna ha 60 anni di Pozzallo ma originale della Campania si aggirava nel centro storico pozzallese con fare sospetto perquisita. È stata trovata con alcuni ovuli di eroina all'interno della borsa per un totale di oltre 100 grammi oltre a due flaconi di metadone da oltre 100 ml. La donna dunque è stata arrestata la droga sequestrata dopo le formalità di rito è stata condotta in carcere a disposizione del PM di turno. A fiducia nella magistratura e nei medici del reparto di chirurgia dell'ospedale maggiore di Modica il direttore generale dell'ASP di Ragusa Angelo Aliquò interviene sul presunto caso di mala sanità denunciato dallo studio legale A3. L'ASP di Ragusa ha chiesto una relazione su quanto accaduto all'ospedale maggiore di Modica prende un'indagine interna dopo la morte di Concetta Cannizzaro 65 anni avvenuta lo scorso 14 luglio La donna era stata ricoverata all'ospedale maggiore di Modica nel reparto di chirurgia per l'asportazione di un'ernia stomale ma subito dopo l'intervento avrebbe accusato forti fastidi e dolori dopo un'attac è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico per un'occlusione intestinale al termine del quale è stata poi trasferita in terapia intensiva la signora dopo qualche ora dall'intervento è deceduta per setticemia i familiari si sono rivolte allo studio legale 3A presentando un esposto la procura di Ragusa ha aperto un procedimento penale e il PM Martina Dall'Amico ha iscritto nel registro degli indagati per atto dovuto 7 medici il direttore dell'ASPA Angelo Aliquo interviene sull'argomento dichiarando che saranno eseguiti tutti gli accertamenti per eventuali chiarimenti noi siamo a disposizione per tutti eventuali chiarimenti forniremo tutte le carte io comunque ho fiducia nei medici della chirurgia di Modica che sono persone stanno lavorando alla cremente in questo periodo hanno portato molto avanti le attività chirurgiche nell'ospedale di Modica e per l'ASP e quindi a loro si rivolgono da tutta la Sicilia e quello che viene denunciato verrà accertato non nasconderemo assolutamente nulla rispetto a ciò che è accaduto Assemblea e protesta per gli ASU della Sicilia i lavoratori chiedono la stabilizzazione secondo giorno di protesta per i lavoratori ASU in Sicilia i lavoratori in nero della pubblica amministrazione chiedono la stabilizzazione e chiedono di mettere in atto l'articolo 36 gli ASU in Sicilia sono impiegati in uffici della pubblica amministrazione come ASP oppure nel settore dei beni culturali ma anche altri ruoli come quelli amministrativi in gran parte ruoli strategici e fondamentali per la vita degli enti lavoratori che non hanno un'ora di contributi versati chiedono i diritti allo Stato che ha consentito per oltre 20 anni che questi restassero fantasmi proteste in tutta la Sicilia in provincia di Ragusa i lavoratori ASP per lo più impiegati nella pubblica amministrazione dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa hanno tenuto un'assemblea oggi nei locali di piazza Igea chiedono il riconoscimento della stabilizzazione e chiedono di essere riconosciuti non più fantasmi della pubblica amministrazione ma chiedono dignità lavorativa è stato approvato nella finanziaria regionale l'articolo 36 che era lo strumento giuridico per la fuoriuscita di tutti i lavoratori socialmente utili da questo bacino bacino che deve essere svuotato perché ce lo chiede anche la comunità europea oltre che ovviamente è giusto considerato il fatto che si tratta di soggetti che dovevano essere qualificati o riqualificati per 12 mesi massimo 24 e poi messi nel mondo del lavoro la regione gli enti locali hanno scelto di poter continuare a utilizzarli quindi è compito loro stabilizzarli l'articolo 36 nasce con delle problematiche problematiche che hanno portato a questa proposta di impugnativa da parte del consiglio dei ministri dico ci siamo trovati ad avere difficoltà nell'interpretazione o nella scrittura della norma per questo motivo che vuole fare adesso adesso va riaperto il tavolo di trattativa politica sicuramente e non deve assolutamente arrivare a resistere alla regione di fronte alla corte costituzionale resistere di fronte alla corte costituzionale sarebbe gravissimo per i lavoratori che per i prossimi anni non avrebbero più la possibilità di avere la stabilizzazione perché innanzitutto i tempi della corte costituzionale sono lunghi e non è sicuramente certo visto che l'errore è palese che possano avere ragione come detto prima lo Stato è coinvolto in prima persona e il prefetto rappresenta lo Stato in Sicilia quindi abbiamo coinvolto la prefettura per questo motivo gli altri lavoratori chi non è in rappresentanza a Palermo si riunisce in assemblea in tutta la Sicilia è l'inizio di una stagione di proteste seria che deve portare necessariamente alla stabilizzazione semaforo verde dall'assemblea regionale siciliana per il DDL sull'accoglienza e sull'edilizia bocciato invece l'emendamento che prevedeva la sanatoria degli immobili abusivi costruiti entro i 150 metri dalla costa semaforo verde ieri all'assemblea regionale siciliana al DDL su accoglienza e inclusione il DDL che si compone di una ventina di articoli è stato approvato all'unanimità gli interventi previsti vanno dall'assistenza sanitaria all'istruzione scolastica dalle politiche abitative al sostegno all'integrazione sociale e all'inclusione lavorativa dal ruolo degli enti locali a quello delle associazioni identi del terzo settore adesso c'è una legge regionale che finalmente stancisce alcuni punti fermi anche nel contrasto a forme di razzismo e di intolleranza ha dichiarato il capogruppo del PD Giuseppe Lupo sottolineando l'alto valore del DDL alla cui elaborazione hanno contribuito anche le associazioni del terzo settore e in particolare l'isola che c'è non solo dal punto di vista normativo ma anche culturale soddisfazione viene espressa anche dal deputato del Movimento 5 Stelle all'Ars e primo firmatario della legge Nuccio Di Paola per il quale con l'approvazione del testo l'Ars non ha semplicemente colmato un vuoto normativo che durava da troppi anni ma ha scritto un'importantissima pagina di civiltà non passa invece all'Ars l'emendamento aggiuntivo al DDL edilizia che prevedeva la sanatoria delle costruzioni abusive edificate entro i 150 metri dalla costa prima del 1983 ad affossare la norma presentata dal deputato di Diventerà Bellissima Giorgio Essenza è stato il voto segreto Sala d'Ercole ha bocciato il testo con 24 voti contrari e 22 favorevoli semaforo verde invece per il DDL edilizia che è passato con 27 sì PD e Movimento 5 Stelle si sono astenuti la nuova legge sulle edilizie semplifica le procedure e da stimoli per una vera ripresa del comparto dice la capogruppo dell'Udc Eleonora Locurto rende compatibili le norme nazionali con quelle regionali e finalmente fa chierezze su alcune fattispecie edilizie per le quali è consentito il recupero volumetrico presentati questa mattina in conferenza stampa vittorie e nuovi interventi strutturali della rete idrica la consegna della Voria avverrà tra qualche giorno dopo anni di disagi e di servizi a causa della carenza di acqua la commissione straordinaria del comune Farino sta lavorando alla risoluzione del problema la crisi idrica la crisi idrica vittoria alle ore contate questa mattina infatti nella sala delle capriate conferenza stampa di presentazione dei nuovi interventi strutturali per l'ammodernamento della rete la rete attuale risale agli anni settante ormai obsolete e vittoriesi lamentano ormai da anni una continua carenza di acqua finalmente questa mattina un passo importante è stato fatto la rete idrica sarà oggetto di interventi straordinari i lavori sono finanziati dal ministero dell'interno per un importo di 600 mila euro abbiamo fatto sempre il bene di vittoria e dei vittoriesi ha tenuto a sottolineare il commissario straordinario del comune di vittoria Filippo Dispenza che ci è stato sempre vicino anche in questa circostanza perché ci ha finanziato questo progetto per circa 600 mila euro per intervenire laddove è più urgente e necessario per garantire una corretta distribuzione dell'acqua potabile nelle case della città di Vittoria abbiamo realizzato questo progetto anche in collaborazione con l'università di Catania con la facoltà di ingegneria e con il comparto idrico ringrazio i tecnici gli ingegneri che hanno realizzato questo progetto i lavori partiranno a breve e speriamo con l'inizio dell'autunno di poter garantire un servizio migliore ai cittadini di Vittoria un altro progetto è in atto per il rifacimento dell'intera rete idrica sempre con l'università di Catania e chiaramente con Conati e Arera che dovrebbe finanziarsi il progetto per un totale di 12 milioni di euro quindi nel momento in cui la commissione straordinaria cederà il passo in maniera corretta ad una nuova amministrazione democraticamente eletta credo che la nuova amministrazione si troverà già un percorso avanzato per garantire un bene essenziale ai cittadini di Vittoria Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati dunque i lavori che verranno effettuati alla presenza oltre che dei commissari del comune Ipparino anche dei tecnici del comune della ditta giudicataria della gara e del direttore dei lavori la carenza idrica è un tema che attanaglia la città di Vittoria ormai da anni e adesso ci vogliono risposte tecniche di diversi livelli così come spiega l'ingegnere Giuseppe Grasso uno sull'immediatezza quello di andare a intervenire sui nodi cruciali per poter come dire sbloccare l'alimentazione sulle zone più in difficoltà l'altro quello di una progettazione come dire di medio lungo termine che possa risolvere in maniera definitiva e sostanziale la problematica dell'acqua un intervento da oltre 12 milioni che come dire partendo da uno studio di fattibilità e approfondendo attraverso degli studi che si stanno facendo con l'università di Catania ci consenteranno di poter presentarci sui vari tavoli in maniera autorevole l'informazione nelle capitanerie di porto nella sede del comando generale a Roma la cerimonia è venuta con la simbolica deposizione di una corona di alloro davanti al monumento ai caduti del mare dei porti alla presenza del capo di stato maggiore della marina ammiraglio di squadra Giuseppe Cavodragone che è stato accolto dal comandante generale ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino una data importante quella dell'anniversario che come ogni anno riporta la nota del comando generale del corpo delle capitanerie di porto viene onorata dagli uomini e donne della guardia costiera nei complessi scenari operativi in cui è chiamata ad operare è entrata nel vivo l'operazione mare sicuro nell'ambito della quale sino ad oggi sono state soccorse oltre 1500 persone tra diportisti bagnanti e subacquei l'anniversario del corpo ha costituito l'occasione per tracciare un bilancio delle attività che la guardia costiera quotidianamente porta avanti da gennaio ad oggi in materia di sicurezza della navigazione l'attività di controllo ha permesso di eseguire oltre 700 ispezioni nei confronti delle navi straniere approdate nei porti italiani delle quali 58 sottoposte a fermo amministrativo per gravi irregolarità concernenti la sicurezza della navigazione in materia di tutela dell'ambiente sono state recuperate dai fondali marini oltre 18 tonnellate di reti da pesca abbandonate che si sommano alle altre 7 tonnellate recuperate nel corso dell'anno passato in ambito amministrativo emesse quasi 8500 patenti nautiche a fronte delle quasi 2000 sessioni di esame garantite nella prima parte dell'anno dai comandi territoriali sempre nella prima parte del 2021 l'attività di controllo pesca ha portato al sequestro di oltre 130 tonnellate di prodotto irregolare nonché di oltre 54 chilometri di reti irregolari l'anniversario del corpo assume quest'anno un significato ancora più particolare poiché concide con il suo avvicendamento al vertice riporta la nota il prossimo 23 luglio nella sede del comando generale di Roma la cerimonia del passaggio di consegna nel corso della quale dopo oltre tre anni alla guida del corpo il comandante generale cedente ammiraglio Giovanni Pettorino passerà il testimone al comandante generale accettante ammiraglio Nicola Carlone la pista ciclabile di San Pieri nuovamente invasa dalle dune i residenti lamentano incuria e poca attenzione chi è che la deve togliere qua 20 mezzo di sabbia calo a mucche carrioli a brisichetta chi ci dà questa autorizzazione a poter fare questo tipo di lavoro ogni anno lo stesso problema le dune di San Pieri sono tornate ad invadere la pista ciclabile che le divide dalla limitrofa Pineta circa 20 metri in cui un'intera corsia è stata divorata dalla sabbia mentre un'altra parte è totalmente sommersa ed impraticabile la denuncia arriva dai pedoni e dai ciclisti che ogni giorno affollano la strada che collega San Pieri a Marina di Modica oggi un residente della borgata ciclitana ha sfogato il proprio sentimento di dissenso per quanto accade in una strada a lui cara e che gli ricorda anche la determinazione politica di chi si spese per la realizzazione l'ex presidente della regione Peppe Drago abbiamo una pista ciclabile che Peppe l'ha fatto in onore di Peppe che l'ha fatto per collegare San Pieri con Marina di Modica la gente arriva lì si ferma e rigira come mai non hanno pensato anche a questa parte di pista ciclabile questa non esiste questa non è di nessuno contattato da noi il commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa che ne ha la competenza ha preso impegno di intervenire nel volgere di pochi giorni vi aggiorneremo troppe strade soprattutto quelle principali di Catania sono senza segnaletiche orizzontali mancano le strisce a terra in alcuni casi è difficile capire qual è la propria corsia come dare precedenze come regolarsi in mezzo al traffico spesso caotico siamo all'incrocio fra Viale Regina Margherita e Piazza Roma uno dei crocevia più trafficati di giorno e di notte perché qui c'è lo snodo davvero del traffico cittadino per andare verso la zona del centro verso la zona della Villa Bellini o per salire andando in Viettennea nella zona della montagna un crocevia così come tanti altri così come tante altre strade in cui di fatto manca la segnaletica orizzontale le immagini parlano chiaro non si vedono assolutamente le strisce pedonali a sentire la gente questo diventa davvero un pericolo perché poi l'automobilista non si accorge neanche del pedone perché non è allertato alla presenza di strisce pedonali segnaletica orizzontale che serve anche a delineare le corsie a capire quando si può svoltare a capire quando si deve dare precedenza problemi importanti in una città in cui il traffico veicolare è davvero intenso ed è per questo che i cittadini chiedono che si possa intervenire per garantire l'incolumità dei pedoni e degli automobilisti lei da tanti anni lavora in questa zona e si rende conto del fatto che mancano le strisce pedonali sì ma da veramente tanto tempo parecchio sicuramente da prima della pandemia ha assistito a dei temporamenti a degli incidenti o per fortuna almeno questo si è potuto evitare no abbastanza spesso succedono purtroppo tra l'altro adesso non c'è neanche prima c'era il presidio fisso dei vigili urbani adesso non c'è neanche più quello quindi questo non aiuta perché non solo qui ci sono tante zone che non ci sono strisce lei cammina tanto per la città da tante parti però mancano le strisce la segnaletica orizzontale è proprio a partire dalle strisce pedonali quanto è pericoloso? è molto pericoloso perché le strisce servono anche a segnalare i pedoni non solo per le macchine serve anche a chi guida la macchina a vedere meglio il pedone comunque c'è molta maleducazione anche per chi guida questo purtroppo è vero quanto è pericoloso attraversare senza strisce pedonali? un bel po' perché la macchina potrebbe venire così all'improvviso non vedendo le strisce pedonali dice vabbè questa qua non potrebbe attraversare qui è capitato di notarlo anche in altre parti della città? sì un paio di volte in molte zone di Catania non ci sono le strisce appunto qua le strisce sono cancellate la gente la sera attraversa tra il buio diciamo e le strisce cancellate la gente rischia di ammazzarsi molto spesso qua noi consigliamo di attraversare un po' più avanti perché essendoci torno indietro magari passano meno macchina è una vita che qua le strisce sono un po' più rovinate li fanno ma si cancellano subito poi con tutta questa terra giustamente si vengono anche nascoste e cancellate anche di più un semafogo pedonale che secondo me aiuterebbe un po' la situazione perché la gente qua spesso sembra una via non trafficata ma la gente tenta sempre attraversare e con questo è tutto grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata grazie per la visione